Gentili telespettatori, buona giornata. C'è una data che tra poco è la quale la K del PD potrebbe saltare, cadere, potrebbe lasciare la sua posizione di segretaria a qualcun altro. È una data molto vicina, 25 e 26 giugno prossimo. Eh sì, siamo a meno di un mese dalle elezioni per il Molise, presidente del Molise e consiglio regionale di questa regione. L'ultima carta per restare in sella e per imporre le sue candidature alle europee. Roberta Gravina è la candidata che sfida Francesco Roberti, espressione del centrodestra, nella corsa a presidente del regione. È stato il suo PD a trovare un accordo con il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte sul sindaco pentastellato di Campobasso. Un segnale verso quel famoso campo largo che la segretaria cerca e che Conte dice no. Non serve fare una cozzaglia di partiti, ma ci vuole un programma, non una cozzaglia di partiti. Non è così che si vince. La destra è assolutamente ragione. Però comunque hanno trovato un accordo, un segnale verso quel campo largo che sul territorio potrebbe anche dare dei risultati. Ad appoggiare Gravina ci saranno anche le liste civiche, da tempo riunite in coordinamento con il centro-sinistra. Lei ci conta. Solo vincendo in Molise può mettere a tacere chi la rimprovera di aver scelto una segretaria non all'altezza e troppo a sua immagine e somiglianza. Chi le rinfaccia di non aver nemmeno iniziato a tessere una strategia sulle alleanze, chi la accusa di non aver dato risposte chiare sui temi chiave, quelli più importanti. E' chiaro che sul fronte del cannibalismo interno al Partito Democratico non è secondo nessuno. Quindi la data del 25-26 in Molise è molto importante, almeno per il Partito Democratico, visto che in questi giorni si sono scagliati tutti contro la Schlein, ma non dalle parti del governo, soprattutto a sinistra, ma parliamo di compagni e compagne del suo partito, parliamo di giornali schierati a sinistra, parliamo di conduttori televisivi di programmi di politica evidentemente a sinistra che criticano questa segretaria più non posso, l'inconsistenza di questo politico. Sì è arrivata lì, tanto di cappello è riuscita ad arrivare lì, non è da tutti arrivare alla cima di un partito, quindi delle qualità ce le ha, ma sono qualità non politiche, ma sono quelle qualità da arrampicatore sociale, perché quando arrivi al vertice di un partito hai sbaragliato la concorrenza di migliaia di persone, quindi delle qualità ce le hai, però non è detto che siano poi coincidenti con qualità politiche. Lei è stata brava ad arrivare lì, ma politicamente politicamente, completamente non c'è, non c'è su nessun tema, lei ripete le cose che diceva prima Enrico Letta o che diceva prima Zingaretti, le solite cose, trite, ritrite, patrimoniale, come diceva Zingaretti, lei ripete quello che dicevano quelli di prima, le stesse identiche cose, la patrimoniale e poi tassiamo le rendite, tassiamo la casa, quindi le ricette sue sull'economia sono quelle di aumentare le tasse, quindi più tasse e i diritti delle minoranze, ecco, e il salario minimo che però non ha più neanche ripetuto con forza, hanno parlato di contratti a termine quando la cosa più importante è il salario minimo, però questo è il massimo del programma, cioè riprendere le cose di Letta e aggiungerci niente, perché anche il salario minimo era nel programma di Letta che assieme a Draghi lo volevano fare, non hanno fatto a tempo, Draghi la aveva in programma ma è stato mandato a casa, se no oggi avremmo magari anche l'intelaiatura del salario minimo e non avremmo il problema oggi dei salari poveri. Per quanto così concerne alla politica, le idee politiche di questa segretaria non ci sono, non ci sono perché non ce le ha e non vuole neanche mettersi a pensarle, perché quando sei a capo di un partito che è il secondo partito italiano dovresti sederti con i tuoi fedelissimi o con chi vuoi e mettere giù un programma ben dettagliato su tante cose, se mi date la possibilità di governare qui facciamo così, qui facciamo così, qui facciamo così, invece si è dimostrata la signorina no, no come i grillini, no 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 no, anche su quel famoso presidenzialismo ricordiamoci che il presidenzialismo interessava alla sinistra, ne erano assolutamente convinti di farlo, solo che come successe con il ponte sullo stretto, ricordate che Berlusconi aveva cominciato il ponte sullo stretto, mancava solo l'avvio dei lavori, è arrivata alla sinistra quando è caduto Berlusconi e ha cancellato tutto. Oggi vorrebbero cancellare il ponte, vorrebbero cancellare la riduzione delle tasse col cuneo fiscale, vorrebbero cancellare il presidenzialismo, tutte cose che avrebbero potuto fare loro, tutte cose che avrebbe potuto assolutamente proporre una sinistra e invece li propone un governo di destra-centro ma che è un governo di destra-centro-sinistra perché le cose che vuol fare la Meloni sono anche cose di sinistra, sono cose sia di destra che di sinistra, le migliori idee della sinistra se ne è appropriate il centro-destra e loro sono rimasti senza idee spostandosi verso i centri sociali dove si dice no a tutto senza neanche fare una riflessione, no 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 perché? No no e basta, come no e basta? e no no no, non te lo ripeto più e no. Ecco questa è la politica odierna del PD, no e basta sono tutti nostalgici, cattivi cattivi cattivi, deprimente per loro, una gioia per chi governa. Grazie a tutti e arrivederci a presto.